E' di nuovo qui a mattina 9 per parlare oramai del coronavirus perché purtroppo ci sono i primi caso di contagio anche in campagna. Cerchiamo di capire quali sono gli effetti che lo stesso sta riproducendo e sulla nostra vita ma soprattutto degli effetti anche sull'economia e anche sulla macchina giudiziaria. Abbiamo con noi dei ospiti che ci permetteranno di capire lo status quo della situazione. Abbiamo con noi l'avvocato Monica Mandico che ci permetterà di capire quale è la situazione dal punto di vista economico e dei processi della macchina giudiziaria. Abbiamo in collegamento telefonico anche il dottor Rodolfo Punzi, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'azienda ospedaliera De Colli. Buongiorno direttore. Buongiorno. Buongiorno a entrambi. Innanzitutto grazie per essere in collegamento telefonico. Adesso che ci sono i primi casi di coronavirus anche nella nostra regione campagna, la domanda che le pongo è questa. Come possiamo immediatamente circoscrivere il contagio? Beh, è chiarire innanzitutto che i casi che abbiamo sono casi da importazione. Il che vuol dire che sono pacienti che ci sono, se adesso parliamo di casi probabili, il caso confermato siamo in attesa del test dell'istituzione sanitaria. Ma se fossero confermati probabilmente lo saranno, sono casi di importazione. Vuol dire che non c'è stata trasmissione nella nostra comunità, nella nostra regione, ma il contagio è avvenuto ai comuni della nostra regione. Questo per adesso ci tranquillizza abbastanza perché vuol dire che non c'è trasmissione di virus qui da noi e auguriamoci che non ci sia. Le misure di igiene pubblica sono quelle ovviamente di mettere in quarantena tutti i pazienti che sono stati a contatto con i pazienti che hanno il tampone positivo. Quindi una quarantena di 14 giorni a domicilio del cittadino che è venuto a contatto col paziente con l'infezione da coronavirus, questo ci consente, ci dovrebbe consentire di circoscrivere l'epidemia e quindi circoscrivere l'infezione. Poi ci sono dei consigli come ormai credo che i cittadini napoletani siano ormai assolutamente convinti di alcune cose che sono quelle per esempio di lavare frequentemente le mani, ove è possibile evitare ambienti estremamente affollati. Sì, stiamo mostrando, ecco direttore, il decalogo proprio dei comportamenti da adottare in questi giorni. Il problema è questo, ecco, rassicurare la popolazione perché adesso si teme che possa aumentare in maniera subitanea il numero dei contagi. C'è questa preoccupazione? Io ringrazio innanzitutto voi tutti che su queste trasmissioni ci date la possibilità di rafferenare un po' gli animi dei cittadini che vengono bombardati da notizie che spesso e volentieri sono di tipo allarmistico. Noi stiamo parlando, come diceva qualche clinico qualche giorno fa, di una superinfluenza. Non è che stiamo parlando di una malattia con chissà quale tasso di letalità. Quindi innanzitutto avete presente che l'80% delle persone che si infettano hanno delle patologie se non asintomatiche, pochissimo sintomatiche. Quindi parliamo di una sindrome, noi diciamo, influenza like, simile all'influenza. Un 15% ha delle patologie più serie, può avere dei focolai di broncopolmonite, un'insufficienza respiratoria o altro, però è ovviamente una percentuale bassa. E abbiamo una letalità che è altrettanto bassa perché la letalità della Cina è 2,3, 2,6, insomma dal 2 al 3%. Ma probabilmente il nostro servizio sanitario nazionale potrebbe ridurre ulteriormente questo tasso. Naturalmente quello che preoccupa però i cittadini è il fatto di non sapere con certezza di cosa stiamo parlando. È ovvio che in questi giorni si è fatta più chiarezza, ma resta ancora da capire, al di là della questione della letalità, ma resta da capire come si sta trasformando anche questa patologia. Come si sta affrontando? Trasformando, cioè come si sta evolvendo? La trasformazione da un punto di vista clinico non è prevenibile in tempi brevi, nel senso che non immaginiamo che assuma dei quadri clinici più attenuati o più gravi perché siamo in Italia rispetto alla Cina. Se questo accadrà, soprattutto nel senso di una sintomatologia più banale, di una vitalità più bassa, questo accadrà con un po' di tempo. Le precedenti epidemie ci hanno insegnato questo. Però, torno a ripetere, parliamo di una patologia che nell'80% dei casi è sfumatissima. In un 15% dei casi abbiamo una sintomatologia un po' più importante. E' importante, quindi rassicuriamoci su questo. Possiamo tranquillizzare da questo punto di vista, le chiedo? Non ho capito, non ho sento bene. Possiamo tranquillizzare anche i cittadini da questo punto di vista? Assolutamente sì, assolutamente sì. Dobbiamo mettere in atto tutte le misure cautelari per circostituire l'epidemia, cosa che chiaramente si sta facendo, soprattutto a livello di dipartimenti di prevenzione delle altre, che fanno le loro indagini epidemiologiche per vedere i contatti dei pazienti che hanno avuto l'infezione da coronavirus e quindi per metterli in quarantena. Noi come ospedale Cotugno stiamo cercando di accelerare anche i tempi per quelli che sono le attese per i tamponi. Stiamo ricoverando i pazienti anche solo nel sospetto. Ovviamente però quando il sospetto è negativo non li mettiamo abbastanza precocemente. Però se lei mi dà un 30 secondi giusto per dire quello che non bisogna fare, non bisogna correre in ospedale in caso di sintomatologia. Bisogna chiamare il proprio medico di famiglia, anche solo telefonicamente, raccontargli la sintomatologia, raccontargli se ci sono stati viaggi nelle zone a rischio per l'infezione da coronavirus e il medico di famiglia deciderà, ovviamente consiglierà o meno al paziente se regassi in ospedale o meno. Altrimenti rischiamo di ingolfare i pronto soccorsi, creando solamente un disagio a tutti. Quindi la necessità, il sospetto di infezione da coronavirus ha necessità di due criteri, di due indizi per fare il sospetto. Uno è che ci sia la sintomatologia, che può essere banale ma può essere anche importante. Ma poi soprattutto il dato più importante è il criterio epidemiologico, cioè essere stato in una delle zone cosiddette rosse in Italia, la cintura dell'Odigiano, due paesi nel vero, o essere stato in Cina. Solo in questo caso qui bisogna fare i tamponi per verificare se c'è o meno di infezione. Aspetterebbe che si abbia anche la sintomatologia. Grazie per le precisazioni puntuali e per questo collegamento per noi molto prezioso. Quindi grazie ancora al direttore Rodolfo Punti. Grazie a loro per la possibilità che ci danno di esattivare i cittadini. Poi per qualsiasi aggiornamento lei sarà qui con me per qualsiasi informazione. Grazie ancora.